bella regà qua è Savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale ieri vi ho portato un merge ragazzi col creatore il glitch del transfer e vi ho portato il metodo per fare un sacco di outfit ma non vi ho portato la parte alta cioè diciamo la testa ragazzi quindi vi voglio far vedere un po di esempi di cosa ho combinato io con questi outfit allora ragazzi questo è il primo outfit come vedete ci ho messo un teschio come maschera e ci ho mergiato sopra il caschetto e gli occhiali tutto fatto ragazzi al cannocchiale poi passiamo a questo ragazzi stessa cosa ho preso il completo quello integrale sono andato a cannocchiale mi sono baggato ci ho messo un cappellino sopra e poi ragazzi ho messo anche questi occhialini qua che mi piacevano ci sta bene ragazzi è simpatico poi siamo passati a quello viola raga questo qua è veramente tinta unita con la cintura così con le scarpette bianche non volevo pacciugarlo tanto infatti ci ho messo un cappellino girato e semplicemente una maschera raga questo invece è una bomba cosa dobbiamo fare per fare questo raga prendete un completo base ci mettete la sciarpa che la trovate ragazzi dal negozio di maschere e una volta che avete messo la sciarpa cosa facciamo andiamo a baggarci al cannocchiale e passiamo la parte alta cioè la testa la sciarpa su questo outfit e avremmo fatto anche quell'outfit lì a scacchi poi raga questo è simpaticissimo guardate che carino che è questo qua con la maschera non mi ricordo come si chiama sta maschera ma la trovate comunque sempre nel negozio di maschere e poi vi ho portato anche questo raga veramente un completo facile simpatico guardate sono tutti completini veramente veramente belli fatti con quel merge raga volevo farvi vedere un pochettino la parte alta come potete farla per darvi qualche idea invece per chi si è perso il glitch di cui sto parlando quindi il transfert il merge ragazzi vi lascio il video in descrizione quindi ragazzi se vi è piaciuto il video lasciate un like lasciate un commento supportate il canale iscrivetevi lasciate un like e ragazzi se vi piacciono esplorazioni e molto altro che porterò sul secondo canale lo trovate nella home del canale principale bella alla prossima spada bambi 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 Grazie a tutti.